Scade il 28 ottobre il termine di presentazione delle domande per il bando di assegnazione delle casette di Natale, che per iniziativa del Comune andranno a costituire il tradizionale mercatino di Natale di Piazza 20 Settembre a Pordenone, che rallegra le feste dei cittadini e visitatori da sabato 26 novembre fino al 24 dicembre 2011, con possibilità di proroga fino al 26 nel caso di richiesta da parte di più di metà degli espositori. Sono previste 23 casette piccole e due grandi, tutte dotate di energia elettrica, addobbate in modo uniforme e che saranno sorvegliate nelle ore notturne. La graduatoria dei punteggi validi per l'assegnazione tiene conto dell'ubicazione della ditta, della tipologia di prodotti, delle precedenti partecipazioni, dell'attività sociale o di promozione del territorio. Sono ammessi alla vendita articoli natalizi, articoli da regalo e prodotti gastronomici, escludendo la somministrazione di alimenti e bevande. Le domande, scaricabili dal sito internet del Comune, vanno presentate all'ufficio Sport e Tempo Libero e compilate in tutti i loro punti. E per ulteriori informazioni si può contattare il settore Cultura, Sport e Distruzione in Piazza della Motta, ai seguenti numeri 0434 392914 oppure 392917.